Buongiorno e benvenuti a Zoom sulla città, la rubrica di approfondimento della nostra web tv sulle attività del comune di Napoli. Siamo con l'assessore Luca Trapanese per parlare di politiche sociali. Buongiorno assessore. Buongiorno a tutti. Assessore, dove sono le persone che prima dormivano nella galleria Umberto? Noi abbiamo deciso di dare decoro alla persona prima che alla galleria. Erano persone abbandonate, persone dimenticate da tanto tempo e abbiamo fatto un lavoro eccezionale. Io ringrazio l'unità di strada, tutti gli operatori che hanno lavorato, perché quelle persone adesso sono state collocate, secondo una loro scelta personale, nei luoghi che noi oggi come amministrazione abbiamo messo a disposizione per l'accoglienza. Della pandemia si stimavano a Napoli 1.500 persone senza fissa dimora. Oggi quante sono? Io ti posso dire che siamo in un aumento esponenziale altissimo, che la povertà che noi vediamo in Europa, in tutta Italia, nelle grandi città come Napoli, la vediamo nelle strade. Sono tantissime le persone che ormai vivono in strada. Ci sono tante situazioni, perché ci sono persone con problemi mentali, persone che soffrono di dipendenze, semplici padri di famiglia che hanno perso un lavoro, hanno perso una famiglia e che quindi si trovano costretti a stare per strada. Questo è un problema sociale enorme. Il Comune cosa può fare? Allora, innanzitutto il Comune deve avere una visione, che è una visione di modernità. Il nostro sistema di accoglienza è un sistema antichissimo, vecchissimo e ormai superato. I dormitori devono essere abbandonati come concetto di accoglienza perché non sono inclusivi, perché non sono quello dove ognuno di noi vorrebbe stare. Tu vorresti mai dormire in un dormitorio, ma vorresti avere una tua casa. Quindi noi stiamo sviluppando un processo di cambiamento di accoglienza, che è sull'housing first, cioè sull'accoglienza individuale o piccoli gruppi, sfruttando gli immobili del Comune, sfruttando gli immobili confiscati e incentrando quindi su un'accoglienza diversa, mirata, che va sulla persona, che crea dei servizi sicuramente collaterali. Adesso noi lavoreremo prima di tutto nel creare una serie di servizi alla città, quindi maggiori luoghi di accoglienza o di servizi per le persone sulla strada, ma nello stesso tempo di recuperare queste persone e di dargli una casa. Se mi dovessi dire cosa hai fatto in questi primi sei mesi da assessore? Ma tanto. Io mi sento di aver fatto cose belle prima di tutto. Innanzitutto ho raggruppato tutte le associazioni. Noi abbiamo delle associazioni che sono delle eccellenze a Napoli e che si sono sostituite al welfare per tantissimo tempo ed è importante partire da loro, ascoltare e lavorare sul loro lavoro e cooperare insieme a loro. La cosa che più mi ha entusiasmato è che siamo riusciti a dare la specialistica ai bambini disabili a scuola, garantendo gli ultimi sei mesi di scuola, ma lavorando con l'assessore Baretta affinché venga messa in bilancio la specialistica. Un lavoro importantissimo è stato quello dell'accoglienza ucraina. Abbiamo accolto quasi 300 nuclei familiari, oltre mille persone, in totale accoglienza gratuita. Ma la cabina di regia prevista dalla prefettura, dove c'è l'Asl, c'è la regione Campania, c'è il comune di Napoli, ha assistito oltre 6 mila persone in questi primi 40 giorni di guerra. Qual è la tua idea di welfare? Io credo che il welfare sia benessere. Noi dobbiamo pensare alla persona a 360 gradi, dobbiamo passare dall'assistenzialismo alla creazione di una serie di servizi che siano stabili e duraturi. Significa anche contaminazione tra pubblico e privato? Sì, è questa l'idea di modernità del welfare. Non possiamo immaginare che la sola amministrazione possa dare le risposte più importanti ai cittadini, ma l'amministrazione deve essere protagonista di intensificare e creare una rete che abbracci il pubblico e privato, le istituzioni, le associazioni, le fondazioni. Per esempio noi siamo riusciti a portare a Napoli l'esoscheletro. Grazie all'Unione Industriale l'esoscheletro è un macchinario unico che consente alle persone allettate di poter camminare. Oppure come è successo con Focus, la fondazione Focus che ha visto impegnare una serie di aziende francesi in attività sociali. Questo è il nuovo sistema, noi dobbiamo partire al presupposto che l'amministrazione da sola non può fare più nulla se non si dota poi di una rete di altri enti con i quali si può iniziare a pensare di lavorare insieme. Quali saranno le prossime linee d'azione del tuo assessorato? Noi stiamo lavorando tanto sull'infanzia, sulla disabilità. La parola disabilità io l'ho trovata pochissimo nelle nostre azioni comunali e quindi dare spazio alle persone più fragili. Ieri per esempio abbiamo fatto una riunione con tutte le organizzazioni di persone disabili che occupano spazio dalla sindrome di Down all'autismo o alle disabilità più importanti. Stiamo lavorando con gli immigrati perché Napoli offre pochissimo rispetto all'accoglienza delle persone immigrate. Stiamo lavorando a dare un'assistenza diversa agli anziani, immaginando anche di creare dei servizi che siano più incentrati sulla persona. Il PNRR può portare risorse anche ai nostri servizi sociali? Le politiche sociali hanno tanti fondi. Il PNRR sarà incentrato soprattutto sulla povertà, sulle disabilità sul dopo di noi e sugli anziani. Queste sono le tre aree che per il momento abbiamo strutturato e che abbiamo investito. Se vanno bene tutti i progetti che abbiamo cercato di promuovere avremo quasi 5 milioni di euro a disposizione. Grazie di essere stati con noi e al prossimo appuntamento. Buona giornata. Arrivederci.